Ciao ragazzi, nuovo video in cui vi voglio parlare di un argomento interessante. In realtà voglio dare una risposta a una domanda molto importante, la domanda delle domande. Mi viene fatta più e più volte durante l'anno e la domanda è Dario, qual è la competenza numero uno, la competenza che è più importante in assoluto per diventare imprenditore digitale? O comunque la competenza più importante del mercato digitale? E la risposta a questa domanda, secondo me, in realtà è lampante. E adesso te lo dico subito. Prima di tutto, chi sono io per rispondere a questa domanda? Mi chiamo Dario, sono un imprenditore digitale, sono fondatore di Marketers, che è la più grande community di imprenditori digitali. E sono anche fondatore di Marketers Accelerator, che è un acceleratore, acceleriamo startup, costruiamo business nel mondo digitale. E in tutti questi anni, se c'è una cosa che mi ha fatto crescere, è stata proprio la mia capacità di scrivere e di fare copywriting. E infatti, secondo me, il copywriting è lo strumento numero uno per riuscire a raggiungere risultati straordinari, se vogliamo, online. E adesso ti spiegherò anche perché. Cercherò di dare una risposta piuttosto razionale alla domanda perché. Perché proprio il copywriting? Perché non l'advertising, o il funnel marketing, o l'automation marketing, o l'email marketing, o tutte le discipline che si possono effettivamente acquisire ormai oggigiorno nel panorama digitale. Allora, innanzitutto, quello che ho fatto nella mia vita è iniziato tutto dalle parole, dallo scrivere, ok? Ovviamente anche dai fatti, però dalle parole perché i fatti avevano a che fare con le parole. I fatti sono che ho costruito un blog e quel blog mi ha dato la possibilità di generare un audience e questa audience mi ha dato la possibilità di ottenere i primi clienti e costruire il mio primo business. Quindi tutto è partito con le parole, con la capacità di comunicare. Il copywriting che cos'è, per chi non lo sapesse? Ovviamente alcuni di voi già lo sapranno, magari alcuni di voi che mi stanno ascoltando sono dei copywriter e lavorano come copywriter, ascoltatemi lo stesso perché secondo me questo video pone in essere delle riflessioni molto molto interessanti riguardo alla professione del copywriter. Per chi non sapesse invece che cos'è il copywriting, il copywriting è nato come, diciamo, come competenza, ok? Saper scrivere per vendere. Ci fu un'epoca dove i grandi copywriter fecero milioni di euro inviando email cartacee, quindi le cosiddette lettere di vendita. Quindi era questa abilità di saper scrivere per vendere, riuscire a comunicare a quante più persone possibile un messaggio, che fosse un messaggio di vendita. Poi il copywriting, se vogliamo, è stato, secondo me, ha cambiato un po' la sua declinazione. È diventato uno strumento importante per chiunque, perché non è più solo scrivere per vendere che è riduttivo. Caspita, siamo nell'epoca dei video, in questo momento sto facendo dei video e per farlo sto facendo copywriting. Perché il copywriting, secondo me, ha un livello più alto, è la capacità di comunicare in maniera efficace. E se tu ci pensi, l'oggetto di questo video è un video, ma qual è l'oggetto di questo video? L'oggetto è la comunicazione. Quando facciamo advertising, mostriamo a quante più persone possibili cosa? La nostra comunicazione. Allora, ecco, secondo me il copywriting è lo strumento numero uno, è la competenza numero uno, perché trascende tutte le altre. È la più importante, è da dove si origina tutto. Fare marketing significa saper scalare la propria comunicazione, ok? Quindi devo avere una comunicazione efficace e poi la devo proporre a quante più persone possibile. Tutto ciò che faccio nel marketing molto spesso è dedicato a raggiungere quante più persone possibile con la mia comunicazione. E la mia comunicazione è il risultato della mia capacità di copywriting. Quindi il copywriting è ciò che mi serve per produrre una comunicazione efficace, persuasiva e che mi permetta di raggiungere dei grandi risultati, ok? Quindi, e cosa significa? Significa che io parto con la capacità di scrivere o di raccontare o di comunicare e poi tutte le altre strategie servono per produrre di più. Avere più risultati grazie a questa mia capacità. Quindi, perché è più importante dell'advertising? Semplice. Il copywriting è più importante dell'advertising perché il copywriting è da dove si origina l'advertising. Quando io faccio advertising, pago per mostrare a quante più persone possibili i miei contenuti. Per mostrare a quante più persone possibili il risultato della mia capacità di copywriting. Quindi produco un messaggio che sia video, che sia scritto, che sia testuale, che sia audio, che sia un podcast e lo promuovo. Ma se non sono capace di scrivere o di produrre questo contenuto, è ovviamente inutile fare advertising. E diventa inutile fare email marketing perché anche qui che utilità ha saperne di email marketing, di automazioni, di data analytics, se non ho la competenza che origina l'efficacia dell'email. Cioè se io scrivo un'email, produco automation marketing, faccio email marketing, sto andando a costruire una sequenza di email, quello che conta veramente è l'oggetto di quell'email, che deriva dalla tua capacità di comunicare. Quindi secondo me è la competenza delle competenze. Quando possiedi questo, quando hai la capacità di scrivere incredibili contenuti, fare video incredibili, ecco, tutto il resto scende in secondo piano, perché quando abbiamo un messaggio che funziona dannatamente bene, questo si diffonde anche in maniera organica, in maniera gratuita. Un contenuto scritto bene molto spesso non ha neanche bisogno dell'advertising, perché in qualche modo viene condiviso e ricondiviso. Quante volte scriviamo dei post virali? Ok, magari ci è capitato una volta nella nostra vita di scrivere un post e dividere 25, 30, 40 condivisioni. Perché abbiamo scritto qualcosa che funziona, che arriva elementi delle persone. E per raggiungere lo stesso risultato, con un contenuto che funziona male, dobbiamo pagare. E molto spesso cosa facciamo? Paghiamo per far vedere un contenuto e siamo felici perché l'abbiamo fatto vedere a 10.000 persone, ma guarda caso non facciamo neanche una condivisione. E significa che quel contenuto non ha funzionato. E quindi è inutile pagare, fare advertising, fare email marketing per mostrare qualcosa che non funziona, perché scagliamo la nostra comunicazione ma è negativo. Cioè mostriamo a più persone una cosa che non funziona. E invece di ottenere di più, otterremo sempre meno. Ok? Quindi questa è la prima riflessione. Il copywriting è l'abilità di essere efficaci nella nostra comunicazione. E questo non riguarda più solamente la vendita, ma riguarda tutto. Perché se siamo dei politici dobbiamo vendere le nostre idee, quindi convincere le altre persone. Se siamo dei ragazzi giovani vogliamo convincere i nostri amici a fare un viaggio tutti assieme, e dobbiamo avere delle doti organizzative, ma anche di comunicazione di quella che è la nostra idea. Oppure vogliamo trovare il partner della nostra vita, il ragazzo o la ragazza dei nostri sogni e dobbiamo essere bravi a comunicare ciò che abbiamo dentro o la nostra persona, no? Questa cosa è importante. Un'altra riflessione è che tutti i business hanno a che vedere con la vendita. Guardate, una delle grandi crisi dei professionisti è proprio questa. Non rendersi conto che hanno a che vedere con la vendita. Quando tu chiedi a un gelataio qual è il tuo lavoro, io faccio il gelataio. E se chiedi a un negoziante qual è il tuo lavoro, io faccio il negoziante, vendo vestiti. Se chiedi invece a chi magari ha un'azienda che realizza case, ti dice faccio il costruttore edile. Il punto in realtà è che tutte queste persone sono venditori. Tu crei gelati, produci gelati, ma vendi gelati. E vendi tegore, oppure vendi la realizzazione di case e devi avere ben chiaro questo. Che chiunque deve essere estremamente attento alla propria capacità di vendere. E vendere non significa pioppare qualcosa a qualcuno o essere uno di quei venditori spinti, eccetera. No, significa essere degli abili umani. E un abile umano ha la grande capacità di comunicare in maniera efficace. E questa cosa quindi dovrebbe far riflettere. Ora, passiamo a un livello ulteriore di tutta questa conversazione, del perché il copywriting è così dannatamente efficace nella carriera digitale. Allora, innanzitutto, quando tu acquisisci l'email marketing o l'advertising come competenza, hai un prodotto spendibile. Cioè tu hai una competenza che puoi vendere sul mercato. Quindi hai ottenuto una cosa, una competenza che puoi vendere, ok? Sia che tu sia dipendente, freelancer, eccetera. Se tu invece acquisisci il copywriting, hai due competenze, due strumenti per lo più. Uno è l'oggetto della tua vendita, cioè tu vendi il servizio di copywriting, quindi come c'è qualcuno che vende l'advertising come servizio, tu vendi il copywriting. Ma ottenendo l'abilità e la competenza del copywriting, hai un'ulteriore competenza, che è quella di saper vendere te stesso. Saper vendere il tuo servizio, il tuo prodotto. Perché? Perché sei specializzato nel saper vendere, nel saper comunicare. Quindi non solo hai qualcosa da comunicare e da vendere, come effettivamente un professionista dell'advertising comunica e vende l'advertising, ma hai anche l'abilità che ti serve per vendere quella competenza. Quindi studi una cosa, ma ottieni due benefici al posto di uno. È molto importante. E mi vedete parlare in maniera così entusiasta del copywriting perché sono nato come copywriter. Uno dei maggiori prodotti che ho realizzato nella mia vita è stato un corso di copywriting che vende ancora tutt'oggi e che ha come obiettivo quello di introdurre le persone al copywriting. Tutto ciò che ho costruito lo devo al copywriting, quindi è la disciplina che più mi entusiasma e mi appassiona, mi accende. Il copywriting, come ti dicevo, ha dei vantaggi incredibili. E oltre a tutti quelli che abbiamo visto e all'ultimo di cui ti ho citato, di cui ti ho parlato, che è proprio quello di riuscire in qualche modo a darti due strumenti. Uno, quello da vendere. Il secondo è la capacità di vendere te stesso. Ti dà anche di più. Che cos'è che ti dà di più? Ma in realtà se ci pensi di copywriting ti permette di approcciare diverse strade professionali. La prima è quella del dipendente. Ti fai assumere perché l'azienda ha bisogno di un copywriter. E se sei bravo vali una tonnellata di soldi. Scusa il linguaggio scorrile, ma è la verità. Tu fai conto, cerchiamo di paragonare delle competenze tradizionali potenti nel mercato, come ad esempio quelle dell'ingegnere, del medico. Uno studente desidera diventare ingegnere medico molto spesso anche perché sono delle lauree molto remunerate. Ma per diventare ingegnere medico, per raggiungere un pagamento, non lo so, di 2.000, 4.000, 6.000, 10.000 euro al mese. 10.000, vabbè, devi rientrare proprio nell'1% della popolazione italiana, dei professionisti italiani. Comunque ti ci vuole del tempo, cioè per riuscire a guadagnare quelle cifre devi metterci 5 anni di laurea, più il dottorato, la ricerca, lo stage, il tirocinio, eccetera, eccetera. E poi se ce la fai, se va bene, arrivi a guadagnare i tuoi 2.000 euro al mese. E poi per arrivare a 4.000, 10.000, 7.000 ci metti un'intera vita. Ecco, il copywriter invece ha un vantaggio incredibile, che è quello del tempismo, del timing. Il copywriting è una competenza creativa, per questo difficilmente lo si può insegnare in un'università. È una competenza che dipende unicamente dalla tua abilità di comprendere le persone, comunicare con le persone e comprendere l'oggetto della tua comunicazione. Perché molto spesso ti trovi a lavorare con dei clienti di diverse nicchie, di diversi mercati, che producono cose completamente diverse, e ti troverai a dover riuscire a comprendere come funziona il prodotto per poterlo raccontare. Quindi il copywriting non è, non sto dicendo che è una competenza facile, o che è un lavoro estremamente semplice da perseguire, ma dipende tutto da te. E quando dipende tutto da te, beh, hai il grande vantaggio di poter decidere come andrà, quale sarà il risvolto della tua carriera professionale. Quindi che cosa significa? Mettiamo in chiaro queste parole. Significa che io posso decidere di buttarmi nel copywriting e di fare un anno super intenso a comprendere, a studiare e a proporme sul mercato subito dopo. Vuol dire che io in un anno sono già competitivo sul mercato, inizio già a imparare con la pratica, perché ricordiamoci che nel mondo lavorativo ciò che conta veramente è la pratica. Ogni anno che stai dentro l'università senza fare pratica, stai comunque allontanando il momento che arriverà e porterà con sé ovviamente un risultato. E il risultato qual è? Quello di diventare un professionista capace di portare a casa dei risultati, perché i risultati dipendono dalle azioni. Quindi devi iniziare a entrare nel mondo pratico. o quanto prima possibile. E il copywriting ti permette di seguire un corso oggi, leggere quanti più libri possibile e iniziare già domani a spenderti sul mercato. Ovviamente ci sono persone più portate per diventare copywriter, ok? Ci sono persone che molto probabilmente, avendo sempre avuto la passione per la lettura, essendo magari introverse, essendo dei grandi ascoltatori, hanno la grande capacità di ascoltare il prossimo, capire chi hanno davanti. E quindi essere capaci di entrare in empatia con le parole. E questa cosa è importante quando si vuole diventare copywriter. Quindi ci sono persone che potrebbero già essere copywriter senza neanche saperlo. Certo, poi devi raffinare le strategie, la capacità di vendita, tutte quelle competenze legate allo scrivere per vendere, che magari sono un po' più aggressive rispetto alla mera capacità di scrittura. Però, caspita, il copywriting ti dà quella capacità, quella possibilità, quell'opportunità di entrare nel mercato del lavoro già da domani, ok? Non importa che sia un anno o sei mesi, dipende da te, da quanto studi, da quanto ti impegni, da quanto sei appassionato. E ti posso assicurare che i copywriter possono guadagnare molto. Ti faccio un esempio, uno dei ragazzi che lavora per noi, il copywriter più pagato in marketers, guadagna migliaia di euro al mese. E non sto parlando di 2000 euro al mese, molto di più, migliaia di euro al mese. E ha la mia età, ha 28 anni, ok? E guadagna molto più di un medico, guadagna più di un ingegnere, di qualsiasi ragazzo, 28enne, ingegnere o architetto o medico. A meno che non stiamo parlando probabilmente dei geni assoluti. E tutto questo, avendo studiato forse uno o due anni il copywriting, ha iniziato subito a lavorare nel mondo del copywriting. Però era portato per questo. Era la sua passione, era la sua capacità, era la sua competenza, ha sempre avuto la passione per la lettura. E questo è l'inizio della sua carriera. E quando inizi guadagnando una cifra del genere, puoi arrivare dove desideri. L'importante è che porti profitto all'azienda per cui lavori. Quindi nel caso del nostro copywriter, questo copywriter è capace di generare per marketers migliaia di euro in vendita grazie alle sales letter, i contenuti che scrive, le pagine di vendita, le email di vendita. E quindi sappiamo molto, abbiamo molto ben chiaro il suo valore all'interno dell'azienda. E anche tu puoi avere un valore molto alto all'interno di un'azienda se dimostri che con la tua capacità di comunicare, di scrivere email, di scrivere sales page, produci migliaia di euro o decine di migliaia di euro. Ecco, questa cosa è importante. Quindi la prima carriera che puoi intraprendere è quella del dipendente. Ma un'altra carriera interessante per il copywriter è quella del freelancer. Guarda, io sono amico con uno dei più grandi copywriter al mondo. È italiano. E lui ha iniziato la sua carriera studiando all'università come tutti, in realtà. Quindi lui ha studiato linguistica ed è diventato piuttosto bravo. E a un certo punto si è trovato a lavorare come freelancer per alcuni dei più grandi brand al mondo, digitali, da Yahoo a tante altre testate, ma anche per personaggi come Neil Patel, che è uno dei più grandi digital marketer americani. Ed è arrivato a guadagnare un euro, un dollaro a parola. Un dollaro a parola. Significa, ragazzi, che se scrivete un'email di 2000 parole o un articolo di 2000 parole, guadagni 2000 dollari. E non ci vuole così tanto scrivere un articolo. Non a livello di competenza, a livello di tempo. Quindi arrivi a guadagnare delle cifre molto alte a fine mese se sei pieno di lavori. E nel suo caso è arrivato a un punto tale che a un certo punto ha iniziato a ricevere più richieste di quelle che poteva gestire. E ha iniziato a trovare i primi collaboratori, a formarli. Quindi lui vendeva questi servizi a suo nome, però poi li faceva realizzare a dei ghostwriter che lavoravano per lui. Quindi ha costruito un team ed è diventato freelancer, ma anche imprenditore da un certo punto di vista. Ecco, questa cosa dovrebbe farvi pensare. Il copywriting è una competenza spendibile, ma anche scalabile. 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 Quando tu fai l'ingegnere, fai l'architetto, fai il medico, è molto difficile scalare la tua professione perché la tua scalabilità, la tua capacità di crescere dipende dagli altri, da chi ti ha assunto, dall'ospedale, dallo studio di architettura, eccetera, eccetera. Quando invece tu sei autonomo, sei freelancer, sei imprenditore di te stesso, sta a te comprendere in che modo puoi declinare la tua competenza per arrivare a un risultato ancora maggiore. E questa cosa dovrebbe accendervi dentro. Un'altra cosa bellissima del copywriter, freelancer, imprenditore è che può essere multimandatario e può lavorare in revenue share. Che cosa significa? Significa che io posso trovare un cliente e posso studiarmi un cliente, andare da lui e dire ascolta, guarda, io credo che tu abbia un prodotto straordinario e ho alcune idee su come puoi venderlo o come puoi declinare la tua comunicazione. Tu hai un database di email di clienti, io ogni mese manderò gratis per te due email ai tuoi clienti dove proporò i tuoi prodotti e mi pagherai una percentuale del 25% sull'utile che genereremo grazie alle vendite che io genererò grazie alle mie email. Vi rendete conto? Cioè siamo in grado di renderci conto del fatto che quell'imprenditore non spenderà niente ma ci pagherà una percentuale di quello che noi gli faremo produrre in più. Quindi a fine mese su di noi avrà un guadagno. Noi gli stiamo già offrendo un investimento senza rischio ma con un ritorno. Questo è uno strumento incredibile, incredibile come copywriter che abbiamo. Abbiamo la possibilità di vendere un servizio straordinario. Secondo me il copywriting è a tutti gli effetti lo strumento, la competenza più importante più importante in assoluto per riuscire ad essere spendibili nel mercato digitale per riuscire ad avere grandi successi nel mercato digitale. E ragazzi se vi interessa questo argomento mettete iscriviti al canale fate clic sulla campanella e ci vediamo nei prossimi video che parleremo spesso di questi argomenti. O se no sotto nella descrizione puoi trovare il link al mio corso copywriting se può interessarti. Ci vediamo nel prossimo video, ciao e grazie. Grazie a tutti.